Scaramouche, l'heure di vostra lezione è arrivata! Questa lezione è che bello, non sono mai nella scuola! Io parlo di lezione di schermo! Schermo? Perché voi sapete chi è di schermo? Ce sarà l'occasione di verifiare! Una lezione di schermo! Scoperiamo il campo! Sì, scoperiamo il campo! Madonna Isabella! Per i vostri pelli! Per i vostri pelli! Per i vostri pelli! Per i vostri pelli! Scaramouche! Si mette di fare il patacà, scusate! E facciamo parlare le armi! Allora, la vostra, chi li può parlare? Il francese, la vostra? Il franco, barocchino, italiano, spagnolo! E bene, sarà l'occasione di dare una lezione a tutto il Mediterraneo! Allora, signor Barone, cosa ne può fare? A francese! E le mortelle! A proposito già! Forse un po', commenciamo il schermo! Allora, signor Barone! Passiamo! Non lo connessano? Alex mia! Il fuzie! È un po' che! ma non abbiamo pensione anche con gli stagini